nella narrazione dell'immigrazione. Ok, good. Diversi livelli di complessità nel racconto delle immigrazioni, anche a seconda del tipo di piattaforma e di committente, se vogliamo, con cui mi rapporto quando mi viene chiesto di lavorare su questo tema, che è un tema su cui sostanzialmente è il tema centrale del mio lavoro praticamente da un decennio. Partirei facendovi vedere quattro immagini. Dario, chiediamo prima alle persone di registrarsi, quindi di collegarsi su menti.com e inserire il codice che vedono qui in sovrimpressione. Ok, dimmi te quando partire. Sì, vediamo le persone, sì, dovremmo vederlo in diretta. Puoi andare, sì, già sulla seconda slide, così vediamo le persone che si sono collegate. Perfetto, lo vedo da qua, lo vedo? No, si vede da lì in basso. Ok, continuo quindi. Aspettiamo un po' che si collegano le persone così. Menti.com con questo codice qua. Ah, vedo già infatti alcune risposte. Ah, no, registrando, sì. Sì, sì. Condivido anche qui nella chat, così tutti possono. Sì, diciamo che il risultato di questo brevissimo sondaggio introduttivo è abbastanza chiaro, no? Sì. Ed è da un lato un po' scontato, se vogliamo, certo. La foto di Alan Kurdi è quella che ha girato maggiormente sui media nazionali, sui media internazionali, intorno alla quale si è creato dibattito e anche all'interno del mondo della fotografia si è parlato molto anche dell'opportunità di fotografare, di mostrare quel tipo di immagine con quello che comporta a livello etico. Sorprendentemente, all'interno di queste quattro immagini qua, che ci tengo a dirlo, sono tutte e quattro immagini che raccontano aspetti legati alla rotta che migranti richiedenti asilo fanno per arrivare in Europa, in questo caso. Ci sono due immagini che hanno vinto il WordPress Photo, che sono le due immagini sulla destra, eppure la foto di Alan Kurdi è sicuramente quella che conosciamo meglio. Sono anche quattro immagini che mostrano, se vogliamo, gradi diversi di crudeltà, gradi diversi di empatia, gradi diversi di complessità del fenomeno migratorio. Perché ho voluto iniziare con questo? Facendovi vedere queste immagini per farvi capire che il fenomeno migratorio spesso viene raccontato in una maniera, e adesso lo vedremo, che appiattisce molto la rappresentazione su dei canoni estetici e informativi, e spesso questo succede a scapito di una narrazione più complessa, che può aiutare a comprendere il fenomeno. Non ci facevi cenno anche a un bisogno di complessità prima anche te, Pasquale, quando parlavi appunto dell'intenzione di trovare un colpevole a tutti i costi, ignorando invece che questo è il fenomeno migratorio, è un fenomeno estremamente sfaccettato e complesso. Sì, chiaramente la foto di Alan Kurdi, avete tutti risposto la stessa cosa, ma sapevamo che sarebbe andata così, è quella che ha girata di più. Ed è una foto che un pochino al suo interno contiene tante delle contraddizioni che caratterizzano la rappresentazione del fenomeno migratorio sui media oggi. E soprattutto, guardando quelle quattro immagini lì, capiamo che ogni immagine può raccontare un aspetto diverso, ma soprattutto nel suo raccontare l'immagine non è neutra. La prima cosa che vorrei fosse chiaro a tutti è che attraverso le immagini, cioè quella subito di decostruire l'idea che la fotografia è un mezzo oggettivo e la fotografia è portatrice di verità. Le immagini non sono mai neutre, non sono mai neutre ma prima del Photoshop, io qui non sto parlando di manipolazione, alterazione della realtà attraverso dei metodi diciamo tecnologici, ma anche semplicemente nella scelta di cosa inquadrare, di cosa lasciare fuori dall'inquadratura, di che tipo di estetica, costruzione dell'immagine, utilizziamo anche all'interno proprio del rettangolo che stiamo utilizzando quando facciamo fotografia. Noi stessi stiamo dicendo qualcosa, stiamo facendo qualcosa attraverso l'immagine che non è mai oggettivo. Chi fa fotografia professionalmente conosce la maniera in cui utilizzare questi diversi livelli di costruzione dell'immagine, spesso anche tralasciando fuori dal quadro determinate cose o decidendo cosa includere. L'idea insomma però è fondamentalmente che la fotografia non è un medium neutro, la fotografia non è un mezzo oggettivo. E' vero che il referente reale spesso è quello che c'è nella fotografia, effettivamente si chiama referente reale perché ha dei criteri di oggettività, ha dei criteri di realtà, però comunque è sempre un framing, quello che in inglese si dice framing, cioè un incorniciare. Noi stiamo incorniciando una porzione di mondo e attraverso questo incorniciamento, attraverso questo framing, stiamo effettivamente dicendo qualcosa. E quindi stiamo effettivamente esprimendo un'opinione personale, non è oggettiva. Questa presentazione vi farà vedere diversi gradi in cui questa soggettività si esprime e cosa significa esprimere questa soggettività attraverso le immagini. Quindi cosa facciamo quando fotografiamo le migrazioni, quando filmiamo le migrazioni? Cosa stiamo dicendo? Vi giro questa parola a voi. Quando vedete immagini di migrazione sui media nazionali, cos'è che vedete? Cos'è che non vi piace? Cos'è che invece vi fa pensare? Immaginate la maniera in cui vengono rappresentate le migrazioni nel dibattito pubblico nazionale. Quali sono le cose che non vi piacciono? Qui loro possono rispondere, giusto? Sì, bisogna sempre usare quel codice che si trova in alto, collegarsi a menti e inserire appunto il proprio pensiero, cioè in poche righe. Ok, certo, sì. Sì. Vero, vero. Diciamo che siete già molto avanti in quello che staremo per dire nelle prossime slide. Conoscete molto bene il fenomeno anche voi, quindi probabilmente siete consapevoli, diciamo, delle manchevolezze, delle mancanze, delle mancanze all'interno del dibattito sui media della rappresentazione delle migrazioni. Vedo che tanti di voi rispondono appunto all'utilizzo di un lessico emergenziale, la strumentalizzazione, la semplificazione del fenomeno, l'idea che la migrazione sia un'invasione e diciamo che se devo leggerle così proprio velocemente, facendo un po' di scheming, c'è molta appunto, molta invasione, molta strumentalizzazione del fenomeno, spettacolarizzazione è un altro punto, generalizzazione, insomma, conoscete bene la tematica, quindi siete molto consapevoli, vedo anche della problematica che i media mainstream, chiamiamoli così, comportano quando raccontano questo fenomeno. E questi problemi non sono, cioè sono proprio intrinseci al modo in cui i media scelgono, perché è una scelta, si tratta di una scelta, di rappresentare le migrazioni, perché la migrazione all'interno dei media ha un tipo di rappresentazione, è un canovaccio, chiamiamolo così, di rappresentazione estremamente codificato, estremamente anche se vogliamo canonizzato, che è legato a delle scelte precise. Il discorso viene spesso appiattito sull'essico emergenziale, infatti bravi tutti quanti siete consapevoli di questo problema. Quando si parla di migrazione, l'appiattimento del discorso è proprio su un lessico emergenziale, si parla di sbarchi, quando sappiamo, noi che lavoriamo con il fenomeno migratorio, che gli sbarchi sì, sono una parte del fenomeno migratorio, rappresentano una parte del fenomeno migratorio, ma non sono sicuri, non sono il punto cardine del fenomeno migratorio. E inoltre, quando parliamo di immagini, i canoni estetici che utilizziamo, utilizzano i media, quando parlano di migrazioni, sono tutti i canoni estetici che derivano molto dalla storia dell'arte, rappresentando i migranti, i rifugiati, i richiedenti asilo, come vittime e le circostanze da cui fuggono come catastrofiche. Quindi c'è questa alterizzazione, diciamo, che loro sono delle vittime, quindi sono diversi da noi, che invece vittime non siamo. Le circostanze da cui fuggono sono catastrofiche, mentre noi non viviamo in delle circostanze catastrofiche e la rappresentazione che abbiamo, quando pensiamo, per esempio, alle immagini dei barconi, degli sbarchi, della rotta mediterranea, è proprio canonizzata attraverso quei codici del linguaggio della storia dell'arte, se vogliamo, che è quello del naufragio. Qui a destra, di questa slide, vedete, c'è la zattera della medusa, che è un dipinto di Jericho, che appunto rappresenta un gruppo di naufraghi, e questa invece è un'immagine di Sergei Ponomarev, un fotorafo russo che ha lavorato molto anche sul fenomeno migratorio, questa fotografia è stata scattata sulle isole greche. Vedete che proprio i canoni estetici sono gli stessi. E cosa facciamo attraverso questi canoni estetici? Suscitiamo nello spettatore delle emozioni. rabbia, per esempio, è una delle emozioni che suscita questa immagine, disperazione, esatto, che altro, che altro, che sentimento vi fa, che sentimento vi scatena, vi triggera questa immagine quando la vedete. Se vogliamo rappresentare il fenomeno migratorio attraverso queste immagini, urgenza, sì, perché è chiaramente un'estituzione di emergenza, angoscia, nessuna speranza, sì, paura, pietà, è un altro punto centrale, c'è una grandissima parte di pietismo nella maniera in cui rappresentiamo l'immigrazione sui media, impotenza, è interessante anche, perché comunque è un fenomeno che spesso viene dipinto come talmente grande da essere difficilmente affrontabile, incredulità, compassione, sì, c'è un punto di empatia verso le persone nell'immagine, che però, se vogliamo, rispetto a tutte le altre parole che stanno venendo fuori, la pietà è forse l'unica l'unica emozione sullo spettro semi-positivo, se vogliamo, di queste parole che stanno venendo fuori dal vostro sondaggio. disagio, angoscia, delusione, colpa, ansia, no? Sono tutte quante emozioni che stanno sullo spettro negativo, fateci caso. Quindi, cosa facciamo noi attraverso questa rappresentazione delle migrazioni? Calchiamo la mano sullo spettro negativo del fenomeno migratorio, lo rappresentiamo come qualcosa di atroce, irrisolvibile, che è quasi soverchiante, che è quasi troppo grande da essere affrontato. Cosa comporta questo tipo di rappresentazione sui media? Che, prima di tutto, crea una distanza tra lo spettatore e il soggetto, perché un soggetto che è mostrato in una condizione così diversa da quella di chi sta guardando, automaticamente nell'esperienza di chi vede quel tipo di immagine, si crea una sorta quasi di confine tra me e gli altri, perché quello che loro stanno, quello che queste persone stanno attraversando è talmente lontano dal mio tipo di esperienza, dal mio vissuto, che automaticamente queste persone smettono di essere immediatamente identificabili con me. Si crea quello processo che in antropologia si chiama la otherness, la alterizzazione possiamo tradurla, ovvero c'è una distinzione netta tra osservatore e soggetto delle immagini. Quindi attraverso questa distinzione netta c'è questa separazione tra un noi, c'è un noi da questa parte e un loro da quell'altra parte. E questo è una cosa problematica, perché ovunque noi mettiamo una separazione, ovunque noi smettiamo di sentire che le persone all'interno delle immagini sono parte del nostro vissuto, sono persone con cui noi effettivamente possiamo avere qualcosa in comune, creiamo un confine che sposta sempre più in là la possibilità di entrare in connessione, entrare in connessione empatica, entrare in avvicinarci a quelle persone e al problema, la tematica della migliazione attraverso una, attraverso la lente della complessità e si crea insomma come se creassimo, come se scavassimo una, come se ci fosse un fiume tra noi e gli altri insormontabile, che quindi cosa comporta? Che spesso noi che siamo da questa parte del fiume, noi, guardiamo dall'altra parte del fiume con quel senso appunto di impotenza di dire vabbè però è così, è così, non si può fare niente, d'altra parte loro sono diversi, loro, la loro vita è diversa dalla mia, posso osservare, posso intristirmi, però non posso fare nulla e questo è il grandissimo problema di questo tipo di narrazione, quello di spostare sempre un po' più in là il problema rispetto a noi e quindi ignorare la complessità della cosa e quanto in realtà questo problema sia intrinsecamente legato a quello che noi anche facciamo, come ci comportiamo e come i fenomeni sociali, geopolitici, addirittura da cui molte di queste persone si stanno allontanando attraverso il fenomeno migratorio, spesso siano proprio anche causate da qualcosa che noi stiamo facendo e questo se vogliamo il principale problema al cuore del tipo di narrativa visuale che utilizziamo quando raccontiamo le immigrazioni sui media e che i media scelgono, ecco mettiamola così, che i media scelgono di utilizzare. Andiamo avanti, questa immagine qua, sì, molti di voi l'hanno vista, sarebbe interessante anche sapere dove, purtroppo è complicato, è un'immagine molto famosa, vi do due informazioni su questa immagine, questa immagine è stata scattata dal fotografo Massimo Sestini nel 2015 credo, 2016 diciamo al culmine di quella che è stata definita la crisi dei migranti prima e poi più correttamente la crisi dei rifugiati in secondo luogo cioè in seconda istanza mostra un barcone appunto fotografato dall'alto dall'elicottero nel momento in cui viene identificato cioè localizzato in mezzo al Mediterraneo dai soccorsi queste persone verranno poi soccorse dalle persone sull'elicottero da cui il fotografo ha scattato la fotografia ed è un'immagine che ha avuto grandissima circolazione perché per il suo la sua la sua diciamo struttura visiva si prestava perfettamente in quel momento a raccontare quella che era la crisi dei rifugiati è una fotografia che ha vinto anche il il wordpress photo che è un prestigioso premio di fotografia ed è una fotografia che però diciamo col senno di poi se la guardiamo effettivamente contiene al suo interno diversi 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 concetti visuali problematici mettiamoli così è una fotografia che rappresenta effettivamente un momento drammatico e quindi questo è il ruolo anche poi del fotogiornalismo di rappresentare la drammaticità di determinati momenti però queste immagini in particolare e immagini come questa hanno contribuito e contribuiscono ancora oggi a creare quel lessico emergenziale intorno al fenomeno migratorio perché sono immagini come queste che sono immagini molto impattanti a andare a formare una sorta di inconscio visuale collettivo intorno al fenomeno migratorio che poi è quello che si riflette sui media e per dimostrarvi questo io ho fatto una ah ecco che tipo questa è una domanda interessante sì perché a volte corro troppo se doveste di nuovo in word cloud in commenti veloci una parola sola che tipo di rappresentazione del fenomeno emergenza legata alla quantità quindi invasione ok abbiamo questo questo tema del ci stanno sono troppi sono troppi cioè massiva invasione invasione sì arrivano assolutamente arrivano peraltro sì è un po' anche lessico poi di chi di tanti movimenti politici che si oppongono alle politiche che vorrebbero un un approccio più se mi viene vinto soltanto umano come 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 aggettivo verso verso la crisi dei rifugiati molte persone illegalità irregolarità massa di persone emergenza non c'è più spazio inferiorità interessante inferiorità è un è un tema interessante perché effettivamente se ci pensate è uno sguardo dall'alto verso il basso è un po' come se fosse lo sguardo di un dio verso qualcuno di estremamente inferiore i canoni cioè quando facciamo fotografia il punto di vista è importante anche che l'unica migrazione possibile sia quella di persone nere che è vero cioè è una è uno dei vari appiattimenti del discorso pubblico intorno al al fenomeno migratorio quando si parla di migrazione l'immaginario va subito all'Africa subsahariana mentre comunque la migrazione è estremamente più complessa più sfaccettata e geograficamente variegata di così disperazione migrazione irregolare migrazione irregolare che peraltro sì migrazione come migrazione irregolare che è soltanto una piccola percentuale del fenomeno migratorio lo sappiamo eppure l'appiattimento del discorso è su questo su questo tema qua parlavamo di inconscio collettivo prima io ho fatto un rapidissimo esperimento con google cercando su google immagini che è un po' diciamo google oggi è un po' al nostro inconscio tecnologico collettivo se vogliamo cercando su google immagini la parola immigrazione questi sono i risultati c'è anche questa fotografia che abbiamo vista e copie della stessa se vogliamo i canoni visivi sono grossomodo li stessi una barca piena di persone alla deriva nel Mediterraneo in maniera molto interessante sono le stesse immagini identiche con veramente pochissima differenza c'è un po' di persone in cammino qua se vogliamo sulla rotta balcanica quando anche la rotta balcanica aveva preso i titoloni dei giornali però anche qua abbiamo masse di persone quando si cerca rifugiati e c'è di nuovo questa immagine di massimo sestini che sono le stesse immagini gli stessi canoni visuali che abbiamo quando cerchiamo la parola migranti e voi che lavorate con la migrazione sapete bene come dire migrante rifugiato e immigrato sono concetti estremamente diversi non soltanto da un punto di vista lessicale ma anche proprio burocratico legale eccetera eccetera che sono le stesse immagini che compaiono quando cerchiamo richiedenti asilo che sono le stesse immagini che compaiono quando cerchiamo clandestini che peraltro è una parola che è tornata di nuovo alla ribalta recentemente visto che il governo ha appena varato una legge per contrastare il traffico di clandestini incredibilmente come se davvero nel 2023 ancora signorasse che è un termine carico e che sostanzialmente sbagliato sotto molti punti di vista cosa significa questo cosa volevo farvi vedere con questa brevissima ricerca nel nostro inconscio visuale collettivo che le immagini che diciamo in generale abbiamo in testa quando si parla di clandestini che quindi abbiamo un carico semantico che fa leva sull'illegalità sono le stesse immagini che abbiamo quando si cerca rifugiato per esempio o richiedente asilo e sono queste immagini che appiattiscono il discorso di nuovo su un fenomeno importante senza dubbio ma comunque marginale all'interno di tutta la complessità del fenomeno migratorio che è quella delle barche nel Mediterraneo ed è il più grande problema secondo me oggi che hanno i media quando parlano del fenomeno migratorio perché perché comunque quando vediamo masse di persone e il fenomeno migratorio viene visualizzato come una massa di persone abbiamo visto anche voi prima dicevate è un'invasione sono troppi da gestire non c'è più spazio cosa succede? che quando si parla di masse di persone ce lo teniamo sempre di più da un rapporto se vogliamo empatico con quelle persone quelle persone all'interno dell'immagine e la spersonalizzazione quindi l'allontanamento dall'esperienza individuale della persona che ha scelto di intraprendere il viaggio verso l'Europa porta anche a un utilizzo strumentale delle immagini come questo ad esempio la stessa immagine di Massimo Sestini è stata poi utilizzata dalla Lega la Lega per Salvini Premier quindi eravamo nel governo giallo-verde all'epoca e viene utilizzata in ribaltandone semanticamente completamente il significato per parlare di invasione quindi e per di nuovo è calcare la mano ancora su questa divisione tra noi e loro noi che dimentichiamo la mascherina e mi fanno 1000 euro di multa tu loro invece che arrivano col barcone e hanno vitto alloggio ricarica telefonica i famosi 35 euro e tutta questa cosa qua e questo è un tema importante per quanto riguarda le immagini perché è chiaro che Massimo Sestini non è d'accordo non era d'accordo con l'utilizzo strumentale che è stato fatto dalla sua immagine tant'è che ha fatto causa a Silvia Piani per questo utilizzo della sua immagine però è una cosa di cui noi dobbiamo essere estremamente consapevoli quando raccontiamo storie attraverso le immagini è che siccome le immagini diversamente dalle parole possono essere decontestualizzate molto più facilmente quando noi scegliamo di rappresentare qualcosa in una determinata maniera dobbiamo sempre chiederci ma in che modo questa immagine può resistere a un'eventuale risemantizzazione del suo significato in che modo il tipo di canovaccio visuale il tipo di contenuto semantico all'interno di questa immagine potrebbe diventare eventualmente problematico e questo tipo di immagine qua per quanto ribadisco cioè sia importante documentare anche l'emergenza umanitaria legata ai viaggi attraverso il Mediterraneo questo tipo di immagine qua purtroppo si presta molto bene all'essico dell'invasione che quindi fa il gioco diciamo opposto a quello che a quello che vorremmo fare noi quando parliamo di un fenomeno complesso perché un'immagine del genere che viene ribaltata non solo va in una direzione di iper semplificazione del messaggio ma anche se vogliamo di stortura di forzatura del messaggio in una direzione opposta a quella originaria quella che è un'immagine umanitaria sì scusa se ti interrompo avevo una domanda perché parlando in occasione delle prove che abbiamo fatto durante prima del webinar di oggi mi hai fatto riflettere su una cosa su cui effettivamente non avevo mai pensato che in inglese la parola per dire scattare una fotografia to shoot il verbo to shoot è un qualcosa di molto violento perché significa di fatto shoot sparare puntare con l'obiettivo su una persona su un qualcosa su un oggetto e letteralmente sparare e questo conferma diciamo anche quello che è un rapporto asimmetrico molte volte tra chi scatta la foto e chi è al centro appunto della fotografia avevo trovato questa giorni fa appunto un mio amico mi ha consigliato questo libro bellissimo che ho qui di Davide Enia appunti per un naufragio e c'è un passaggio in cui spiega alla perfezione questo aspetto un passaggio brevissimo che leggo la fotografia ti mette di fronte a una realtà la bambina nuda che grida e piange il miliziano che muore il bambino seriano ha negato una delle foto più terribili di sempre ed è giusto che sia stata scattata e poi pubblicata che ritrae una realtà lancinante dolorosissima e nonostante tutta questa sofferenza mostrata noi restiamo incapaci di capire quanto sta succedendo alla fine cosa è cambiato? quindi quello che ti vorrei chiedere dopo questa breve interruzione ma effettivamente le foto hanno il potere di cambiare un qualcosa di portarci magari ad affrontare un tema in maniera più consapevole richiedere la modifica non so di alcune leggi eccetera eccetera è una domanda è una domanda è la domanda che ci facciamo tutti che facciamo questo lavoro da sempre allora in qualche modo sì e in qualche modo no ovvero è vero che la famosissima fotografia per esempio di Nikut della ragazza in Vietnam della bambina che scappa nuda dal bombardamento di Napalm ha contribuito in maniera sostanziale ad alimentare un movimento antiguerra negli Stati Uniti che poi ha portato sostanzialmente il governo sottunitense a prendere la decisione di sospendere il conflitto così come è vero che la fotografia di Alan Kurdi il bambino siriano annegato di cui parla questa tua citazione ha contribuito a muovere in Europa specialmente in Germania una coscienza collettiva verso l'accoglienza dei rifugiati siriani in riferimento proprio specifico al conflitto siriano perché era diventato evidente che attraverso quel tipo di immagini c'è stata come una sorta di presa di coscienza di empatia collettiva quindi la fotografia ha il potere di muovere le coscienze sì ma sì ma nel senso perché il punto è che la fotografia è allo stesso tempo anche estremamente presente all'interno delle nostre vite e soprattutto molte volte la fotografia viene quando si parla specialmente di crisi umanitaria viene molto calcata la mano sull'aspetto della sofferenza ne parla molto bene la sociologa Susan Sontag se qualcuno di voi la conosce nel suo libro Davanti al dolore degli altri che è un libro che affronta proprio il tema della fotografia di sofferenza della fotografia di giornalismo e la fotografia di sofferenza in particolare la fotografia ha una caratteristica che noi spettatori ci assuefiamo molto velocemente a quello che vediamo nelle fotografie e quindi a fotografia di sofferenza per esempio faccio l'esempio appunto di Alan Kurdi del bambino ossidiano annegato un altro Alan Kurdi non ci sconvolgerebbe nella stessa maniera oggi quindi bisogna anche fare molto attenzione su dove mettiamo l'asticella su quanto scegliamo di alzare l'asticella perché quello che è successo dopo anni e anni e anni e anni e anni di giornalismo giornalismo se vogliamo che scava nella miseria e calca la mano sulla sofferenza è che siamo diventati o stiamo diventando sempre più insensibili al dolore degli altri faccio l'esempio delle fotografie del Biafra delle famosissime fotografie della femmin della carestia in Biafra negli anni 90 dove avevamo queste tantissime immagini dei bambini con il ventre gonfio dalla denutrizione le costole fuori addirittura sempre parlando di carestie c'è quella famosissima fotografia del bambino con l'avvoltoio che aspetta dietro quel tipo di immagini lì oggi non ci fanno lo stesso effetto che fecero all'epoca e quello che cosa significa questo perché rappresentando così rappresentando la sofferenza in una maniera così esplicita e mostrando l'abisso immediatamente abbiamo un moto di rivolta per dire di empatia anche devo fare qualcosa per far sì che questa cosa non accada più ma poi il nostro cervello attiva tutti dei meccanismi di difesa verso l'orrore per il quale alterizziamo l'altro ok cioè lo portiamo sempre più là e quindi è così capito arriviamo a un punto in cui diciamo semplicemente è così non posso fare niente perché è troppo perché fare i conti con quella realtà con quella sofferenza diventa troppo ci siamo ci assoffiamo a quella cosa e quindi quando vediamo per esempio altre foto di carestie siamo già abituati e non le consideriamo nella stessa maniera di prima sono meccanismi mentali che il nostro cervello fa mette in pratica per renderci in grado di superare il trauma sostanzialmente quindi sì la fotografia ha il potere di cambiare le cose ma allo stesso tempo è un potere estremamente effimero e quello che davvero fa la differenza secondo me è la capacità non tanto non solo della fotografia ma quanto della narrazione giornalistica della narrazione reportagistica di offrire allo spettatore una comprensione del contesto all'interno del quale succedono quelle tragedie quindi non la tragedia in sé ma la tragedia come parte di una big picture come parte di qualcosa di più grande di una complessità maggiore che allora sì lo spettatore si sente in grado di affrontare e cambiare la fotografia ha questa capacità ma le immagini simbolo chiamiamolo così spesso operano in maniera molto più veloce ma il loro effetto si esaurisce molto più velocemente anche non so se ho risposto alla domanda sì 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 infatti ora la curiosità puoi vedere appunto le soluzioni che tu offri per cercare di fornire diciamo questo più che soluzioni alternative ecco non è che ci sia proprio una soluzione però sì cioè essere consapevoli che più alziamo l'asticella del dolore più a questo dolore ci abituiamo e quindi più siamo più diventa difficile affrontarlo cosa succede attraverso le immagini che vediamo che appunto che poi sono anche queste immagini di dolore e sono tante cose che voi avete scritto nella prima slide e quindi tutta questa introduzione diciamo sul dibattito pubblico è come se voi già l'aveste fatta perché attraverso il lavoro che fate attraverso la vostra esperienza già lo vedete c'è una polarizzazione del dibattito ovvero c'è un appiattimento del dibattito pubblico che si divide tra assistenzialismo e rifiuto delle migrazioni ovvero sul dobbiamo aiutare e sul non li vogliamo si utilizzano i codici lessicali del pietismo dell'indinnazione e della paura che sono tutte e tre parole che voi avete scritto guardando quell'immagine di Pono Mareff e chiaramente si appiattisce si semplifica estremamente il tema delle migrazioni su un aspetto marginale e limitato che è quello dei disbarchi e dei viaggi attraverso il Mediterraneo questo è diciamo la panoramica di quanto accade sui media però i media non sono gli unici produttori di immagini e storytelling intorno al tema migratorio per esempio io ho l'occasione ho avuto l'occasione sia negli anni passati ho ancora la fortuna diciamo l'occasione di lavorare spesso con istituzioni che si occupano del fenomeno migratorio e qui quello che vorrei farvi vedere sono due esempi in particolari uno di quando ho lavorato con Save the Children nelle scuole per sfollati interni IDP e rifugiati nel Kurdistan iracheno e poi invece un esempio di video che ho prodotto per UNHCR qua in Italia per farvi vedere diciamo come chi si occupa del fenomeno migratorio è consapevole delle problematiche di questo tipo di narrativa che si costruisce intorno a questo fenomeno e come nel loro piccolo all'interno della loro produzione di storie cerchino delle alternative parto con la serie prodotta per Save the Children questa è una serie sono alcune sono soltanto poche di una serie di 150 immagini che io ho scattato nelle scuole costruite appunto da Save the Children nei campi rifugiati e negli insediamenti urbani nel nord dell'Iraq non soltanto nel Kurdistan iracheno quindi qui siamo tra Hammam al-Alil Mossul Erbil Dohuk cioè tutta la parte nord dell'Iraq diciamo da Baghdad in su per i bambini che sono dovuti scappare dalle loro case a causa del conflitto tra ISIS e l'esercito regolare iracheno e comunque dovevano continuare ad andare a scuola è una storia che racconta un tema legato alla migrazione perché tutte le persone all'interno di queste immagini sono loro stessi o rifugiati siriani che hanno trovato rifugio in Iraq o iracheni che hanno trovato rifugio in altre parti dell'Iraq quindi sfollati interni però anziché presentarli come vittime la scelta è quello di presentare le persone come titolari di un futuro mettiamola così se vogliamo trovare una maniera di raccontarlo ovvero di persone che sì si trovano a vivere in condizioni difficili perché le immagini sono scattate all'interno di campi rifugiati non si fa segreto del fatto che per esempio c'è uno scarso accesso all'acqua potabile devono studiare le scuole sono montate dentro delle tende vivono in mezzo al deserto non si fa segreto diciamo delle difficoltà che queste persone devono affrontare nella loro quotidianità ma ne viene mostrata una parte di vita che li avvicina allo spettatore non li mostra come vittime dispossessate di qualunque futuro senza nessun tipo di e qui introduco un concetto antropologico di agency cioè di capacità di agire sul proprio sul proprio quotidiano cioè non stanno subendo passivamente una tragedia ma stanno effettivamente facendo qualcosa per remare contro l'avversità degli eventi per quanto il contesto è mostrato come complicato queste sono le rovine dell'università all'ombra delle quali viene costruito questo campo rifugiati qui siamo da Hammam al-Hil che è vicino a qualche chilometro a sud da Mosul era proprio il picco della guerra con ISIS in questo momento quindi diciamo se uno avesse voluto scavare nella tragicità della situazione sicuramente avrebbe trovato della maniera la storia che noi abbiamo voluto raccontare insieme a Seride Cinderin era una storia positiva era una storia che mostrava le persone come detentrici di un futuro che è esattamente l'opposto di quello che vediamo invece quando pensiamo ai canoni estetici del racconto migratorio sui media mainstream quelle persone non sono più detentrici di un futuro e il loro passato è solo tragedia e disperazione e quindi quasi non sono più persone e questo è molto importante quando si lavora sul tema migratorio ricordarci che le persone con cui stiamo lavorando non sono solo soggetti ma sono persone sono esseri umani e come me come voi come chiunque altro hanno un passato un futuro dei sogni delle ambizioni hanno superato degli ostacoli ma prima di tutto sono degli esseri umani non sono una massa di persone ci sono quindi dei canoni estetici che utilizziamo per avvicinarci a queste persone che andremo a vedere anche dopo prima di continuare vi vorrei far vedere anche un altro esempio che è questo Pasquale meglio solo fai vedere te perché così si sente l'audio è uno delle dozzine di video che ho prodotto per UNHCR in Italia con UNHCR mi capita ho spesso la fortuna allora aspetta qui ho un messaggio questa regione è già registrata ok si ho mandato devo interrompere la condivisione si interrompila ok con UNHCR quello che facciamo è cerchiamo di raccontare l'altra parte della migrazione da diversi anni insieme a loro viaggio per l'Italia a raccontare quello che succede dopo l'arrivo quindi non c'è succede per esempio in casi di grandissima emergenza in cui io stesso sono andato ad assistere agli sbarchi specialmente nei casi di sbarchi particolarmente complessi dove centinaia di persone erano sullo stesso barcone ma tutto quanto ma quello che è più interessante attraverso UNHCR è raccontare un'altra parte della migrazione che è quella dei corridoi umanitari delle borse di studio dell'università per ragazzi che vengono da Afghanistan Iraq Siria Pakistan e che quindi attraverso questo possono godere o Africa subsahariana possono godere di un accesso privilegiato all'università italiana in virtù di una borsa di studio del progetto Unicore oppure persone che diciamo rifugiati che stanno costruendo qualcosa qua quindi quella parte di narrativa che è il dopo cioè che è quello sostanzialmente che non si racconta è come se queste persone arrivassero e dopo il momento in cui dell'identificazione e dello smistamento nei centri queste persone sparissero è un po' quello anche che poi crea questa percezione negativa del fenomeno perché è come se queste persone poi siano condannate o all'invisibilità o peggio a una vita di criminalità e quindi quello che facciamo con un NHCR è cercare quelle storie che invece mostrano com'è poi la vita di effettivamente un rifugiato una volta che arriva in Italia questo esempio che vi faccio vedere è stato prodotto l'anno scorso a Milano ed è la storia di Iman vai Pasquale l'audio si sente io non lo sento l'audio 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 No, non ho capito, non ho capito, non ho capito. e tutti i miei amici che hanno fatto un po' di me e i miei amici che hanno fatto molto a me e i miei amici che hanno fatto molto a me amici e hanno fatto tutto i miei problemi di me e mi ha fatto tutto il momento in cui non mi ha fatto il mondo di Italia non mi ha fatto bene la vita Eman può essere un esempio per tanti altri infugiati, secondo me, di come, con la volontà, con la buona volontà, anche con un pittico di fortuna di incontrare le persone che lo possono supportare. E si può riuscire ad arrivare a costruirsi un futuro, un futuro felice. Ok, ricomincio io a condividere. Sì, allora, queste due sono proprio due, proprio per motivi di tempo, anche soltanto questi due esempi, vi faccio vedere per quando lavoro con l'ONG o con le agenzie ONU, sono però due tipi di narrativa estremamente già diversi da quello che abbiamo visto nella prima parte, per quanto semplici anche queste, per quanto, se vogliamo, andarle poi ad analizzare, sono anche queste limitate, non nella maniera in cui rappresentano il fenomeno migratorio, però è interessante, secondo me, all'interno di questo discorso, capire che già sono molto diverse, sono storie positive. Si parla di scuole, c'è scritto ospedale, vi avrei fatto vedere anche una serie di, quando ho lavorato con emergency, sempre su gli ospedali per i dichiaranti asilo in Iraq e Siria, sono storie positive. Non c'è pietismo nel tipo di immagine, non c'è quel calcare la mano sulla sofferenza, e cosa significa questo? Che queste storie non suscitano né indignazione né paura, cioè tutti quei sentimenti che stavano sullo spettro negativo dell'emotività non ci sono qua, sono storie che volutamente vanno in un'altra direzione, che mostrano le difficoltà, ne fanno cenno, fanno capire allo spettatore che non è facile quello che stanno vedendo, ma non calcano la mano su quella sofferenza, non è quel tipo di sofferenza hollywoodiana che invece siamo abituati a vedere quando normalmente sfogliamo un giornale o guardiamo un notiziario sui principali canali televisivi. Come si fa questo? In che modo quindi questo tipo di narrativa differisce dall'altra? Prima di tutto sono narrative personali, sono narrative dove i personaggi di quello che vediamo sono vicini alla telecamera o alla macchina fotografica, la macchina fotografica è accettata all'interno della relazione tra me e persona che sto fotografando o filmando. Tornando un po' a quello che dicevi prima te Pasquale, la macchina fotografica spara, to shoot, e in questo caso qua però c'è una consapevolezza da parte anche della persona che sta dall'altra parte della lente, che io sono lì, sono presente, non sono immagini rubate e la relazione di potere tra me e le persone che sto fotografando è sincera. Cioè io sono qua a farti delle immagini e tu mi hai accettato, non è intrusiva. C'è un grande lavoro prima per guadagnarsi la fiducia delle persone che fotografo e o filmo in questa maniera qua. E soprattutto il rifugiato, il richiedente asilo, lo sfollato interno nel caso dei ragazzi di Save the Children, degli studenti di Save the Children, non sono numeri ma sono persone appunto, non è quello che si diceva prima, con delle ambizioni, una storia, degli obiettivi, un futuro, un passato. Insomma, sono delle persone, non sono più quella massa invadente, tornando invece al tipo di immagine che abbiamo visto prima. E inoltre sono storie che affrontano aspetti della migrazione meno conosciuti, che non sono quelli appunto su cui si calcala tanto la mano, quindi sono il post-arrivo oppure il costruirsi un futuro, nel caso della scuola un costruirsi un futuro, nonostante le avversità del momento circostanziata a quel momento storico, a quella determinata località geografica. A livello tecnico che tipo di lessico si utilizza? E questo secondo me è interessante per chi di voi poi si vuole cimentare con questo tipo di narrativa. La telecamera è sempre vicina ed è a livello degli occhi, se fate caso, nelle immagini prima di Save the Children, io ero in ginocchio, ero all'altezza degli occhi dei bambini, non erano fotografati dall'alto verso il basso. Nel caso di Iman, nella sua intervista, l'intervista non è fatta in un momento di fretta, di corsa, ma lui è seduto a casa sua con un microfono pulce sul colletto che gli permette di parlare in un modo naturale, in un modo come se si stesse confidando. È un ambiente intimo, è un ambiente anche che restituisce una dignità al soggetto, cioè è casa sua. I bambini sono fotografati in una classe, non sono fotografati in un momento di sofferenza. Come si fa? Come si arriva a fare questo? Come si arriva a creare questo tipo di narrativa? Il rapporto con i soggetti, prima di tutto, parte prima, cioè non ci si presenta a buffo, se vogliamo utilizzare un termine un po' così, non si arriva in un posto con una telecamera e si piazza in faccia alle persone, ma si fa ricerca prima, si trovano i soggetti, si telefona, si chiede permesso, si fissa un appuntamento, si spiega il progetto al nostro collaboratore, al nostro soggetto, spiega che cosa si sta facendo, stiamo facendo questo, che diventerà una sede fotografica, che diventerà un video, che diventerà un reportage, che insomma si spiega cosa si sta facendo, si coinvolge nella produzione anche il soggetto, si prende un appuntamento effettivamente per quando si lavorerà insieme, ed è questo importante, si lavorerà insieme, non vengo a filmare, ma si lavorerà insieme, è un continuo rinegoziare il rapporto di potere all'interno della produzione di una narrativa, e soprattutto nel momento in cui ci si vede, avviene un'ulteriore spiegazione di quello che sta succedendo, e qui è importante che io introduca il concetto del consenso informato. Il consenso informato è anche questo un concetto che arriva dall'antropologia, che è abbastanza facile da capire proprio nel tipo di... dal nome che ha, che è avere il consenso da parte dei nostri collaboratori, che sia un consenso pienamente informato di quello che sta succedendo, che non sia semplicemente ti faccio le foto e poi... ma queste foto dove vanno? Ah no, non ti preoccupare, no. Cosa sto facendo? Perché lo sto facendo? Dove sarà pubblicato? Chi lo vedrà? E quindi, in virtù di questo, chiedere al nostro soggetto cosa posso e cosa non posso fare. Perché comunque stiamo parlando in molti casi di persone che, chi lo sa, probabilmente hanno lasciato la propria famiglia a casa, quindi avere un'immagine loro sui media mainstream pubblicata su Facebook o su un giornale a grande tiratura come può essere Time o una televisione come può essere Al Jazeera, che raggiunge praticamente tutto il mondo arabo, potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza della famiglia loro che ancora si trova a casa. E questa è una cosa che mi è successa molto spesso, di chiedere alle persone con cui sto lavorando se volessero o non volessero essere riconoscibili all'interno delle immagini. Perché magari, quello che dicono, mi è capitato un esempio che mi viene di questo ragazzino afgano che ho conosciuto al confine nord-est, a Trieste, che lui mi ha detto, mi ha chiesto esplicitamente, io preferisco di non essere riconoscibile perché c'è la mia famiglia ancora in Afghanistan e se i talebani per qualche motivo vedono che io sono rifugiato qua potrebbero dare fastidio alla mia famiglia. E questa è una cosa che noi tendiamo molto a sottovalutare, però noi stiamo facendo i conti con delle persone che si trovano in una situazione di estrema fragilità. E questa cosa qua noi la dobbiamo rispettare, dobbiamo rispettarla e dobbiamo informare le persone con cui stiamo lavorando delle implicazioni, potenziali implicazioni che la rappresentazione della loro storia può avere. Questo è il consenso informato. Ed è un tema che spesso nel giornalismo, per i tempi che ha e per il tipo di approccio che ha, si tende molto a sottovalutare, ma che può avere conseguenze disastrose per le persone che sono all'interno delle immagini. E questa è una cosa che voi che lavorate con le immigrazioni sapete, conoscete, però fa bene sempre rimarcarla, questo concetto, perché è proprio centrale all'interno di chi lavora con persone che si trova in una condizione più fragile della nostra. Aspetti fondamentali di lavorare in questo modo sono appunto guadagnarsi la fiducia delle persone con cui stiamo lavorando, come non avendo fretta, considerandoli esseri umani, facendoli capire cosa stiamo facendo, capendo le loro esigenze, e può capitare, nel caso di grandissima difficoltà, rinunciare alla storia, perché comunque stiamo lavorando con delle persone, non con degli strumenti. Loro non sono uno strumento per me per pubblicare qualcosa di mio, o per raccontare l'attività della mia ONG, o per... no, sono persone prima di tutto. E questa cosa... non sono strumenti per raccontare la nostra storia. Quindi questa cosa qua è fondamentale ed è sempre, sempre, sempre al centro, secondo me, per come lavoro io, del tipo di narrativa che si crea. Questo ci porterà a creare delle immagini meno impattanti? Può essere, può darsi, ma sono immagini, se le vogliamo, più giuste di quelle che invece poi circolano sui media mainstream. Quali problematiche possono insorgere? Diffidenza sulla divulgazione, ok? Che altro? Perché, sì, Diffidenza sulla divulgazione, nel senso perché si tratta di storie troppo positive, forse, a volte. Ricordiamo qualora, comunque, è possibile anche fare delle domande nella chat di Zoom, direttamente. Che altre problematiche possiamo avere da questo tipo di narrative? Diffidenza sulla divulgazione è un tema interessante, sì. Ma Dario, possiamo andare avanti? Sì, andiamo avanti, così la vediamo dopo, nelle domande di dopo. Una delle grandi problematiche che abbiamo, ed è una cosa di cui discutiamo spesso quando produciamo questo tipo di narrative, è che anche le storie di successo, le success stories, sono una stereotipizzazione, cioè presentano una potenziale stereotipizzazione, ovvero, e l'abbiamo visto, per esempio, nel caso di Iman, in quello che dice il suo allenatore alla fine, è un po' come se dicesse, il buon immigrato è quello che diventa come noi, e quindi, allora, in quanto diventa come noi, è merito l'assistenza. Bisogna sempre tenere presente che la stereotipizzazione è sbagliata in tutti e due i sensi, e quindi, il caso di Manolo lo presenta bene, siamo proprio sul filo del rasoio di andare in quella direzione del lui è diverso perché è bravo, vuole fare le Olimpiadi. Oppure, la storia della rifugiata, che ne so, della Repubblica, su cui ho lavorato l'anno scorso, della Repubblica Centroafricana, che arriva in Italia e diventa infermiera. Ah, che bello, diventa come noi, e quindi lei sì, no? Bisogna sempre tenere conto che le persone con cui lavoriamo possono essere, cioè sono, anzi, sono meritevoli di protezione e dignità a prescindere da loro diventare come noi, o entrare all'interno di un nostro canone di giustezza, diciamo, sociale, o di integrazione, ecco, mettiamola così. Quindi, quando raccontiamo queste storie, tenere presente che anche un bias cognitivo nostro, positivo, potrebbe essere carico, anche quello di una determinata stereotipizzazione. Facciamoci attenzione. Domande qui? Raccogliamo, sì, delle domande, questa è la chiusura della parte seconda. Nel frattempo io ho la presentazione, la domanda di prima, e sto vedendo, ci sono alcune domande interessanti. te le vedi? Tanto di Giacchi Laiuta, sono casi di dorati, sono uno su un milione, sì, che vedo, sono legate ai media, editori, a caccia di un altro tipo di storie negative, eventualmente di storie più positivi. Sì, quello è centrale, cioè, il punto è che noi, tutto questo discorso, io chiaramente ve lo faccio dal mio punto di vista, poi c'è un, ci sono i gatekeeper, sono quelli che eventualmente scelgono se pubblicare o meno una storia. Però tante volte, ricordiamoci che la scelta di pubblicare soltanto storie negative è anche per la sovrabbondanza delle stesse, perché gran parte delle persone si focalizzano molto spesso solo sulle storie negative. Quindi, produrre un altro tipo di narrativa può abituare il sistema mediatico, il sistema comunicativo, effettivamente anche alla pubblicazione di un altro tipo di, narrative. Senza contare che noi stessi oggi, specie voi che lavorate magari con ONG, siete voi stessi potenziali distributori di contenuto attraverso i vostri canali social, attraverso il vostro pubblico, attraverso vostre iniziative. Quindi le storie positive sono importanti da cercare a prescindere e da raccontare a prescindere, perché sono, secondo me, un necessario contraltare all'eccessiva negatività delle altre. Quindi la mia esaltazione è a cercare di raccontarle in una maniera etica e in una maniera collaborativa con i vostri soggetti. più domande? Dario, andiamo un po' avanti, le raccogliamo dopo perché... Un ulteriore passo, diciamo, verso una rappresentazione più etica e più vicina ai soggetti del fenomeno migratorio è quello che è il documentario Character Driven, che è un'ulteriore complessificazione di quello che abbiamo visto che io faccio con un NHCR. L'esempio qua che vi faccio vedere è la storia di una rifugiata siriana in Iraq che vive in un campo rifugiati. Pasquale, chiedo di nuovo a te di iniziare la condivisione così da far sentire l'audio. Questo è stato pubblicato da Internazionale, vi faccio vedere questa versione così ha già i sottotitoli in italiano. se puoi mettere a schermo intero anche. In alto a destra, sì. E l'audio si sente? Sì, buona parte. Non si sente. Sì, buona parte. Sì, buona parte. Sì, buona parte. Grazie a tutti. 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 parliamo di Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.